Ieri in Consiglio Comunale si è parlato di rifiuti a più istanze, prima per la lamentele da parte di alcuni cittadini e quando riguarda la raccolta. Nella prima parte del Consiglio Comunale si è risposto a un'interrogazione del Movimento 5 Stelle sui disservizi o sulle lamentere che spesso arrivano agli uffici da parte dei cittadini. È stato un momento di sintesi, guardando l'estate appena trascorsa, i problemi che abbiamo riscontrato e le soluzioni che si sono messe in campo. È chiaro che siamo in un momento un po' particolare perché siamo alla fine di un contratto di parecchi anni con una società che non ha partecipato al bando che è stato pubblicato nei mesi passati dal SRR e per questo è poco interessato. Si sta defilando. In una qualche maniera, diciamo che sull'intera area, alla luce di quello che è stato il risultato della gara, l'azienda rimane per la città di Marsale e per quella di Trapani. Evidentemente non era interessata invece ad altre parti del territorio, anche perché il bando impediva alle società di presentare una proposta per più di due sottolotti. Ma questo è un aspetto molto tecnico e probabilmente soltanto gli addetti ai lavori riescono a cogliere. Però questo qua ci ricollega direttamente alla Costituzione in Aro perché costituendosi in Aro ci siano più possibilità per varie aziende. Sicuramente la Costituzione in Aro e quindi avere un territorio che è limitato da quello del nostro comune ci permette di proporre un bando con un capitolato e un importo a base d'asta che consente a molte più aziende di partecipare. Quindi aumentare la concorrenza e poter ottenere un risultato più vantaggioso per la città di Alcamo. Tutto questo in ogni caso prevede una rivisitazione del piano che avevamo nell'occasione della gara dell'SRR e quindi un ampliamento di servizi o di prestazioni da parte della società che poi si aggiudicherà i lavori. Però è stato detto che la Costituzione in Aro che è stata decisa ieri sera era accompagnata da una relazione tecnica per capire realmente a cosa si andava incontro. Qualche consigliere ha parlato di salto nel buio? No, su questo io non sono assolutamente d'accordo perché l'esperienza di Iaro è un'esperienza che molti altri comuni e altri sindaci hanno già compiuto per cui oggi parlare di un percorso che ci permette di andare avanti in maniera assolutamente autonoma tenendo noi le redini del carro per raggiungere l'obiettivo di individuare una nuova società di raccolta dei rifiuti è una scelta che sicuramente ha dei vantaggi, è una scelta che in passato altri comuni hanno fatto in maniera spontanea e che noi non abbiamo avuto in passato la possibilità di portare avanti perché la legge regionale per un certo periodo ha impedito questa Costituzione in Aro. Oggi stiamo recuperando questa opportunità che non ci era stata consentita nell'anno passato. Infatti la parola che più è richeggiata ieri è stata opportunità, opportunità che si tradurranno in cosa per i cittadini? Mi auguro che si tradurranno in un servizio di maggiore qualità e soprattutto in ogni caso in un servizio che abbia un costo congruo con quello che è l'effetto poi sul territorio. Riguardando un territorio più ristretto, quindi un numero di popolazioni più ristretta, non c'è il pericolo che il costo invece aumenti? Non è stata questa l'esperienza che hanno fatto altri comuni prima di noi e ci auguriamo che non sia questo il futuro che ci aspetta. In ogni caso, visto che il capitolato prevederà una somma più bassa a base d'asta, ci permetterà di avere più aziende che partecipano alla gara e quindi la possibilità di avere anche dei ribassi più interessanti, quindi un'economicità nella nuova gara. Grazie a tutti.